auguri a tutti auguri a tutti e grazie per la compagnia fatta e supporto in quest'anno in quest'anno difficile come ogni anno c'è la tradizionale spiegazione del finale di una poltrona per due perché ogni anno si fa questo? per lo stesso motivo per cui ogni anno si guarda il film tradizioni di Natale e quindi anche quest'anno rifacciamo la spiegazione della scena finale di una poltrona per due perché non è chiarissimo a tutti chi l'ha vista cento volte sia il film che la spiegazione sa tutto qualcuno magari che rimane che ancora non si ricorda c'è allora innanzitutto stiamo parlando di contratti future cosa sono i contratti future? beh guardate correva lontano 1989 e un piccolo borghi era appena stato assunto come fattorino in borsa e avevo una voglia matta di dimostrare che poteva valere qualcosa che era il mio primo impiego e che volevo cercare di far vedere che potevo fare anche altro che portare gli assegni e fogliettini e a un certo punto qualcuno mi dà fiducia vale a dire uno dei due agenti di cambio che gestivano l'ufficio era stato invitato a una conferenza e dice ma guarda è una roba complicata parlano di future non so che cosa siano vuoi andare tu? figurati prendo bello vestito con la mia cravattina a 19 anni il mio blocchetto per gli appunti e vado a sentire questa conferenza organizzata dal MATIF che era il mercato dei future di Parigi in Italia ancora non c'erano questi prodotti viceversa negli Stati Uniti c'erano da tempo e il film ne mostra esattamente mostra esattamente di che cosa si trattava in Francia erano arrivati da un po' e in Italia ancora non c'erano e allora la borsa di Parigi che si chiamava appunto MATIF Marché à terme francais si era arrivato per pubblicizzarsi per dire se volete scambiare queste cose venite da noi che siamo bravi e io non capì tantissimo bene di che cosa si parlava però più o meno di che cos'era cos'era l'aspetto di fondo il nocciolo lo capì e arrivai lo spiegai all'agente di cambio che era molto contento interessato e disse ah sì continua a occuparti di queste cose beh quello fu la mia fortuna perché praticamente io da allora cominciai a studiare le opzioni i prodotti derivati e così via e quando arrivò il momento di creare il mercato dei future in Italia ero uno dei pochissimi che se ne intendeva o quantomeno che sapeva di che cosa parlarne quindi praticamente buona parte della mia carriera di quello che ho fatto al lavoro lo devo a quel momento a quella conferenza dove la gente di cambio mi mandò e si parlava appunto di future quindi diciamo che conosco l'argomento di base di che cosa si tratta noi normalmente quando compriamo e vendiamo qualcosa siamo abituati alla consegna immediata vado dal fruttivendolo compro le pesche e mi danno le pesche subito se invece noi fissiamo un termine futuro di consegna diciamo pago adesso e me le consegnano fra tre giorni si dice mercato a termine no? si dice mercato a tre giorni consegna t più tre per esempio normalmente si dice vale a dire l'affare lo faccio adesso ma sia le pesche che i soldi vengono pagati tre giorni dopo la consegna si può fare t più 5 si può fare t più 1 vale a dire a seconda dei giorni successivi alla stipula dell'affare ma un mercato così fatto non consente di vendere prima che si sia comprato perché se io oggi compro un qualcosa a t più tre significa che io pago adesso e mi viene consegnato fra tre giorni ma non posso domani rivendere le stesse cose e pensare di riuscire a compensare le due operazioni perché a sua volta le operazioni fatte domani saranno tre giorni dopo l'operazione di domani quindi io per dire se voglio vendere oggi le pesche anche se fisicamente le consegno fra tre giorni e devo riuscire a avere la maniera di procurarmele prima quindi non posso procurarmele comprandole domani perché a loro volta mi saranno consegnate tre giorni dopo quindi io fra tre giorni quando dovrò vendere le pesche mi presenterò lì a mani vuote e non si può tutto cambia se noi mettiamo un termine futuro fisso e la base del mercato future è quello vale a dire si decide che tutte le operazioni sulle pesche sul succo d'arancio sul caffè sulle cose che i Duke hanno fatto vedere sul tavolo a Valentine quindi l'oro il caffè la pancetta il succo d'arancia le operazioni si regolano a fine mese supponiamo l'ultimo venerdì del mese a quel punto cambia tutto perché io oggi posso tranquillamente andare sul mercato vendere della pancetta del grano dell'oro senza averlo e ho tempo per comprarlo fino all'ultimo venerdì del mese quindi significa che io posso tranquillamente il 4 di gennaio vendere tutto un grosso quantitativo di grano o un grosso quantitativo di pancetta il prezzo poi sale e scende e io ho tempo fino a magari che ne so adesso dipende quando sarà l'ultimo venerdì di gennaio ma diciamo il 20 di gennaio posso ricomprare tutto il quantitativo di grano di pancetta che ho venduto e il giorno dell'ultimo venerdì del mese si fanno i conti si vede quanto ne ho comprato quanto ne ho venduto e regolerò esclusivamente la differenza se io ho comprato per 100 e ho venduto per 100 l'unica cosa che si regolerà a fine a fine mese è la differenza di prezzo perché a questo punto non ci saranno sbilanci io non devo consegnare né consegnare né ritirare pesche perché tanto sono pareggiate tanto ne ho venduto tanto ne ho comprato rimane la differenza di prezzo se io questo sistema lo standardizzo quindi faccio dei contratti standardizzati e lo metto su un mercato regolamentato come era quello che abbiamo visto quella borsa che in realtà nel mondo reale stava a Chicago lì l'hanno messa nelle torri gemelle a New York ecco che diventa un mercato future quindi un mercato di prodotti standardizzati a termine quotato su un mercato regolamentato e nello specifico regolato col sistema del margine perché perché tutte le perdite tutti i guadagni che vengono fatti in questo modo devono essere saldati subito motivo per cui subito alla chiusura arrivano i dirigenti della borsa e chiedono ai Buc di pagare immediatamente quello che loro hanno perso quindi che cosa succede succede che nel film succede che arriva il rapporto sul sul raccolto dell'arance ricordiamo ricordiamo che il succo d'arancia serve se non ci sono le arance fresche gli americani non puoi togliergli il succo d'arancia da bere alla mattina quindi loro lo vogliono se ci sono le arance fresche si prendono le arance fresche non ci sono le arance fresche prendi il succo d'arancia concentrato quindi se io so prima che il raccolto delle arance è stato distrutto perché c'è stato molto freddo e a quel punto il succo d'arancia concentrato varrà tantissimo perché sarà l'unica cosa che si potrà comprare sul mercato viceversa se c'è disponibilità di arance fresche e quindi il raccolto non è stato danneggiato ecco che il succo d'arancia concentrato non vale niente perché la gente preferisce prendere quello fresco il rapporto era dentro sul raccolto delle arance era stato messo dentro in quella busta quella che il signor Biggs doveva consegnare loro corrompendo questo tizio erano riusciti quindi ad averla in anticipo quindi una copia del rapporto ce l'avevano prima quindi loro sapevano prima le informazioni riservate sul mercato faccio notare che è un reato si chiama insider trading chiunque compra o vende dei titoli avendo un'informazione precisa non disponibile al pubblico e dettagliata su il titolo che loro stanno comprando o vendendo commette questo reato vale a dire di insider trading peraltro all'epoca in Italia non esisteva sono tutte cose che sono state implementate solo dopo e quindi ai tempi chi prendeva e comprava in borsa sulla base di informazioni privilegiate lo faceva tra parentesi nella piena legalità quando io avevo iniziato a lavorare e non era ovvio comunque negli stati uniti invece è un reato allora loro che cosa fanno loro dicono io mi garantisco di sapere prima l'informazione di come va il mercato da quello che fanno vale a dire dal fatto che loro vanno a dare ordine al loro broker quindi al loro agente a quello che fisicamente sta sul mercato e compra o vende dandogli ordine di comprare tutto il motivo è uno perché loro quindi valentine e winter gli hanno scritto un rapporto falso vale a dire loro che erano riusciti ad avere sì il rapporto vero perché l'hanno tolto a biggs gli hanno dato un rapporto falso gli hanno dato un rapporto falso dove evidentemente c'era scritto che il raccolto dell'arancia era andato perduto loro sulla base di questa informazione fantastiche notizie fantastiche notizie biggs grazie vanno dal loro agente e gli dicono compra tutti i contratti che ci sono perché sapevano che quando sarebbe stato reso pubblico il dato tutti avrebbero chiesto di comprare il succo d'arancia concentrato e allora il loro agente cosa ha fatto all'inizio del mercato il mercato valeva 100 dollari il contratto sul succo d'arancia concentrato notare 100 più moltiplicatore quindi ogni contratto valeva molto di più di solito di solito un contratto future vale magari 100.000 euro 200.000 euro quindi il singolo il singolo contratto però il prezzo indicato sulla borsa era 100 dollari a quel punto cosa succede loro comprano il future a 100 e col fatto che continuano a comprare per la legge della domanda dell'offerta il prezzo sale non solo gli altri operatori vedono che l'operatore dei duke sta comprando tutto e dicono ma questi non fanno mai una cosa a caso compro anch'io risultato tutti cercavano di comprare è ovvio che però se tutti cercano di comprare e nessuno vende il prezzo va su a vuoto perché dicono io voglio comprare a 120 e nessuno vende io voglio comprare a 130 e nessuno vende io voglio comprare a 140 a quel punto una volta arrivato a 140 o 145 ecco che Valentine e Winter cominciano a vendere ma cosa vendono? dei contratti che già avevano? no perché vi ricordo che essendo un contratto future non importa avere il sottostante l'importante è che i contratti vengano regolati a fine mese quindi loro possono tranquillamente vendere una cosa che non hanno per farlo per poter essere lì hanno preso i soldi dei 50.000 dollari che gli aveva dato che avevano preso per dai 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 duc per avere l'informazione no quando Valentin nel parcheggio aveva fatto credere di essere bigs più si erano tutti autotassati avevano preso i risparmi del di gemili curtis del maggiordomo e così via risultato sono hanno potuto entrare comprandosi la possibilità di poter entrare sul mercato a quel punto una volta entrati sul mercato loro hanno potuto iniziare a vendere e hanno venduto una marea di contratti tutti compravano loro hanno venduto a tutti a 145 poi hanno venduto a 130 hanno venduto a 120 hanno venduto a 110 perché man mano arrivavano l'offerta aumentava fino a che il prezzo non è arrivato a 100 a quel punto loro avranno venduto che so 2 milioni di contratti no o 5 milioni non lo so però hanno venduto una marea perché erano quasi gli unici a vendere tutti gli altri compravano pensando che i Duke sapessero un'informazione i Duke si rendono conto che sono stati fregati corrono giù cercando di bloccare il loro operatore dire per l'amor di dio vendi vendi ci stanno fregando ma non arrivano in tempo ed ecco che tutti si fermano perché a quel punto arriva l'informazione pubblica il segretario dell'agricoltura prende estrae la busta e dà l'informazione che è il contrario di quello che pensavano i Duke vale a dire è che invece sapevano benissimo Valentine e Wintrop perché l'avevano visto prima vale a dire c'era stato l'inverno rigido ma il raccolto dell'arance non è stato compromesso quindi significa che c'era tutto il succo d'arancia fresco che tutti volevano ed ecco che quindi il succo d'arancia concentrato non serve più tutti vendono quindi arrivano e dicono a 100 lo vendo a 90 lo vendo a 80 lo vendo a 70 lo vendo quando vedono che il prezzo comincia ad arrivare a 45 verso 40 ecco che Valentine e Wintrop ricomprano e devono ricomprare ovviamente tutti i contratti che avevano venduto prima per cui si mettono libelli tranquilli e dicono le compro da te le compro da te le compro da te alla fine loro avevano supponiamo che avevano venduto 2 milioni di contratti a fine della giornata col prezzo che scende giù fino all'ultimo prezzo che è 29 loro hanno ricomprato tutti i loro contratti sul succo d'arancia risultato finale quando si arriva al regolamento delle operazioni loro hanno venduto 2 milioni di contratti al prezzo di 120 di media e questi stessi milioni di contratti li hanno ricomprati al prezzo di 30 di media risultato non profitto di 90 per ogni contratto quindi supponiamo che il moltiplicatore sia mille e quindi loro hanno 90 mila dollari di guadagno per ogni contratto ne hanno fatti 2 milioni cifra assolutamente astronomica tale da fargli chiudere tutta la perché la maggior parte di quelli che la devono pagare ovviamente questa cifra perché se uno guadagna l'altro perde è a somma zero la maggior parte la devono pagare i duke tale per cui la loro ditta fallisce vengono sequestrati tutti i conti e alla fine loro si trovano con questa operazione un guadagno incredibile che gli consente per cui di andare su alle Seychelles e rimanere lì per sempre per cui in una maniera o nell'altra vedete come funziona cioè loro non avevano i titoli non avevano su Codarancia semplicemente avevano l'informazione e l'informazione gli diceva che il prezzo sarebbe sceso quindi loro hanno potuto prima dell'informazione vendere tutto e dopo l'informazione comprare tutto anche loro hanno compiuto un reato perché ovviamente anche loro hanno compiuto un reato di cyber trading ma sono simpatici e quindi ci va bene così dall'altra parte uno ha fatto esattamente il contrario di quello che bisognava fare perché avevano un'informazione sbagliata spero che abbiate capito chi ha visto quella degli altri anni ha capito sicuramente porterà pazienza torno alla famiglia vi ho dedicato come sempre qualche minuto e voi lo dedicate a me perché voi siete la mia seconda famiglia e poi questa è una tradizione di Natale quella dello spiegone di una poltrona per due un vero e sincero augurio di buon Natale a tutti un abbraccio anche se non posso immaginate che vi arrivi dal telefono e vi abbracci tutti ci sarà bisogno di tutti voi perché l'anno prossimo sarà l'anno in cui bisogna combattere